Dottore Gallo, un convegno domani sulla valorizzazione dell'olio di qualità promosso da Agrisana. Ecco perché questa iniziativa e qual è la finalità dell'attività di sensibilizzazione che Agrisana svolge? Agrisana inizia l'attività nel 2015, dopo alcuni anni di rodaggio è arrivato il momento di far conoscere al pubblico e ai nostri olivicoltori quali sono le attività che svolge nello specifico. Per cui abbiamo promosso questo importante convegno per comunicare ai nostri olivicoltori, alla nostra città, quali sono i temi di Agrisana. Agrisana svolge oltre a una serie di attività tecniche di assistenza ai nostri olivicoltori. Negli ultimi anni sta promuovendo un'intensa attività di valorizzazione del prodotto, portando avanti diverse iniziative. Per cui in questo convegno abbiamo coinvolto le strutture nazionali che ci stanno aiutando in questo processo di valorizzazione delle nostre filiere. Infatti saranno presenti sia il Presidente che il Vicepresidente di Italia Olivicola, la nostra struttura nazionale che sviluppa tutta l'attività commerciale. Negli ultimi anni abbiamo intrapeso un'importante attività su una filiera sostenibile con gli olifici Zucchi e quindi ci sarà presente il Direttore Commerciale Ghisoni per appunto dare supporto alle nostre attività. Come si comporta il territorio Saccenze? Come si può migliorare l'impatto ambientale dell'oleicoltura? Diciamo che il nostro territorio ha la necessità di creare delle filiere, delle filiere ormai certificate. Oggi la strada per poter arrivare a un prodotto di qualità è quella di certificare il prodotto. Per cui attraverso anche la collaborazione con la cooperativa Mata Terra, in questi anni abbiamo portato a una valorizzazione del prodotto implementando quelli che sono i processi di certificazione, quali la DOP, l'IGP, il sostenibile, il bio. Quindi il titolo di questo convegno è proprio incentrato sui processi che noi dobbiamo portare avanti sia nella valorizzazione della filiera ma anche nella certificazione delle produzioni. Ad oggi quali sono le varietà più importanti prodotte nel territorio di Sciacca? Nel nostro territorio la varietà prevalente è la cerasuola e poi abbiamo la biancolilla e la nocellare del Belice parlando del territorio di Sciacca, queste sono un po' le varietà più coltivate. Poi se ci spostiamo un po' nel territorio di Menfi, Montevago, abbiamo magari un aumento della percentuale della nocellare del Belice.